Salve a tutte e tutti, in questo video parleremo delle proposizioni interrogative. Le proposizioni interrogative si dividono in interrogative dirette e in interrogative indirette. Il prossimo video sarà dedicato appunto alla traduzione delle interrogative indirette e alla spiegazione della consecuzio temporum nelle interrogative indirette. Le interrogative dirette esprimono una domanda in forma diretta e sono sempre accompagnate da un punto interrogativo, dunque è assai semplice riconoscerle. Possiamo dividere le interrogative dirette in proprie se la domanda è reale e quindi se la risposta che ci attendiamo è imprevedibile e poi abbiamo le interrogative retoriche se la risposta è implicita nella domanda stessa. Per quanto riguarda la costruzione dell'interrogativa dobbiamo fare molta attenzione alla parte del discorso che introduce l'interrogativa perché l'interrogativa può essere introdotta da pronomi, aggettivi o avverbi interrogativi. Il pronome interrogativo più frequente è quizquid, l'aggettivo interrogativo è quickquad, dunque è identico al pronome relativo, però quickquad quando è pronome sta al posto del nome, quando è aggettivo interrogativo è concordato per genere, numero e caso al nome a cui si riferisce. Poi l'interrogativa può essere introdotta da particelle interrogative, il ne enclitico, ossia legato alla fine della parola che precede, oppure il nonne che introduce un'interrogativa retorica da cui ci aspettiamo una risposta positiva, altrimenti num per un'interrogativa retorica da cui ci aspettiamo una risposta negativa e la stessa cosa vale per Ann. Abbiamo poi le interrogative dirette disgiuntive, ossia quando si mettono in opposizione due termini, cioè ci si chiede una cosa oppure l'altra. Il primo membro nell'interrogativa diretta disgiuntiva può anche non essere introdotto da nulla, quando c'è l'introduttore esso è o utrum o il ne enclitico, mentre il secondo membro o tutti i membri seguenti possono essere introdotti da Ann oppure da Ann non o da Necne, anzi spesso Necne ha il valore di negazione secca e significa oppure no. Ho poi messo alcuni esempi per poterci esercitare sulle interrogative dirette. Non ne te condennari ne cesse est? Qui abbiamo un'interrogativa retorica introdotta da nonne, quindi ci si aspetta una risposta positiva, affermativa. La principale è ne cesse est e te condennari è l'oggettiva. Non è forse necessario che tu sia condannato? Quindi ne cesse est è la principale, come abbiamo detto in personale, te condennari è l'oggettiva, è la soggettiva ad accusativo più infinito. Qui abbiamo la disgiuntiva, quindi di chi fu questa colpa? Militum an imperatorum, quindi dei soldati oppure dei generali? Rectene interpretor sententiam tuam? Questa è un'interrogativa rispetto alla quale non sappiamo la risposta. L'introduttore è il ne enclitico, interpretor nel predicato verbale. Forse interpreto giustamente la tua opinione? Qua vediamo la quattro. Quis me reprendat aut, quis mi jure succenseat si, quantum temporis ceteris conceditur ad festos dies celebrandos, vela d'alias voluptates, tantum ego metta dex studiare colenda sumpsero. Qui abbiamo una lunga interrogativa in cui abbiamo Quis me reprendat, e qui l'introduttore dell'interrogativa è quis, la sua coordinata, quis mi jure succenseat si, quantum temporis ceteris conceditur ad festos dies celebrandos, qui abbiamo una finale ad ad più l'accusativo del gerundivo, vela d'alias voluptates, invece un complemento di fine, tantum ego metta, ad ex studiare colenda, un'altra finale ad ad più l'accusativo del gerundivo, sumpsero. Quindi, chi potrebbe rimproverarmi quis me reprendat, aut quis mi jure succenseat, succenseo vuole il dativo mi, oppure chi potrebbe a buon diritto sdegnarsi nei miei confronti, se per quanto altro tempo mi sia concesso per celebrare i giorni di festa o per altri piaceri, altrettanto io lo dedicherò, lo trascorrerò, egomet, sumpsero, ad ex studiare colenda, quindi lo trascorrerò a coltivare questi studi, queste occupazioni. Poi vediamo la cinque. Utrum est in clarissimis civibusis cui nullus sonus habitus est unquam. Forse c'è, utrum può essere talvolta usato anche come introduttore dell'interrogativa semplice, dunque non disgiuntiva, in tal caso lo traduciamo con forse. Forse c'è in clarissimis civibus, quindi fra i cittadini assai illustri, is, quindi in questo caso andrebbe bene tradurlo qualcuno, anche se is e aid non significa qualcuno, significa costui, qualcuno a cui mai unquam habitus est sia stato concesso nessun onore, quindi forse c'è fra i cittadini assai famosi un tale a cui non sia stato mai concesso nessun onore. Quindi qui abbiamo un'interrogativa, una relativa molto semplice. Quindi quando Socrate qui potest dici jure parents filosofie che si può definire a buon diritto il padre, il genitore della filosofia fece, ha fatto qualcosa di simile? Io vi ringrazio per l'attenzione e vi esorto ad effettuare l'iscrizione al canale se questo video vi è stato utile per comprendere le interrogative dirette ricordandovi che seguirà a breve un video sulle interrogative indirette e sulla consecucio temporum nelle interrogative indirette. Dunque vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi rinnovo l'invito ad effettuare l'iscrizione al canale.